Rhea Ripley ha fatto la sua scelta e attenzione non è andata come ci aspettavamo. Eh sì perché la WWE nelle scorse settimane ci aveva detto che la vincitrice del Royal Rumble match femminile avrebbe sfidato la campionessa del suo roster d'appartenenza e invece in versione AU massima libertà di scelta. E Rhea ha selezionato Charlotte Flair dicendo tre anni fa sono stata orgogliosa e forse anche un po' troppo spavalda. Come campionessa di NXT ho chiesto alla vincitrice del Royal Rumble match Charlotte Flair di affrontarmi e ho perso. Adesso voglio restituirle il favore, adesso voglio lavare quell'onta. Ora sono pronta, quindi Charlotte ci vediamo allo showcase dagli immortali. È il match che volevate vedere? E a questo punto iniziamo già a fantasticare. Secondo voi chi lo vincerà? Beh ditemi tutto qui sotto nello spazio dei commenti.